Covid-19 sono 150 i positivi di oggi in Calabria 2 le vittime. Montalto ha arrestato l'autista del mezzo che ha investito la 27enne nigeriana e un 21enne del posto che avrebbe dichiarato credevo di aver preso una buca. Vibo Valencia massacrata e rapinata ad un distributore di benzina trovati due responsabili sono due cugini di 19 e 25 anni. Cosenza rapina e rapina revenge porn a danno di un coetaneo arrestato minore a denunciare è stata la madre della vittima.